Il sindaco di Trapani Impossibile reperire un operaio Al via i lavori sulla statale Salemi Gibellina Operai dell'ANAS al lavoro per recuperare alcuni tratti dissestati nell'importante arteria viaria Il sindaco Venuti servono interventi radicali Le notti della vela continuano a Trapani le regate dell'AudiCup Nel village allestito al porto prosegue il programma delle iniziative Questa sera tocca a Mauro Carpi Partnership siglato l'accordo tra Palacanestro Trapani e Conad La nota catena di supermercati sarà main sponsor della società Granata E poi nella seconda edizione del nostro Tg ci occuperemo dell'allarme Lanciato dagli abitanti di Pizzo Lungo in Balia dei Ladri Le case della località balneare vengono saccheggiate ormai con frequenza I residenti hanno chiesto all'amministrazione comunale di Erice di installare le telecamere Sollecitati anche maggiori controlli da parte della Forza dell'Ordine Buongiorno e bentrovati con la nostra prima edizione del Tg Questi erano i nostri titoli, torniamo come sempre dopo la pubblicità Con tutte le notizie e gli approfondimenti Oltre 500 migranti sono giunti ieri al porto di Trapani Luigi Todaro Un nuovo carico di disperati Una storia che ormai si ripete con troppa puntualità Perché il fenomeno degli sbarchi, nonostante le tante tragedie in mare, è inarrestabile Ieri in città sono arrivati oltre 500 migranti Soccorsi a largo delle coste libiche Uomini, donne e bambini in fuga dal loro paese E con la prospettiva di rifarsi una nuova vita altrove Hanno però rischiato grosso perché i barconi utilizzati per la traversata si sono subito trovati in difficoltà in balia della corrente I 500 fanno parte del gruppo salvato dalle unità navali impegnate nell'operazione Frontex Loro sono stati strappati alla morte 50 loro connazionali invece non hanno avuto scampo Soffocati nella stiva del barcone dove erano stati ammassati dai trafficanti di uomini I profughi sono giunti al Moloronciglio a bordo di una nave militare irrandese Ad attenderli sulla banchina la solita task force composta da vigili urbani, carabinieri, polizia, guardie di finanza Militari della guardia costiera, uomini e donne della protezione civile, associazioni di volontariato, ambulanze I migranti stremati per la lunga traversata sono stati rifocillati appena messo piede sulla terraferma E sono stati sottoposti ai primi accertamenti sanitari nelle tende da campo allestite al Moloronciglio Non si sono registrate situazioni di emergenza dal punto di vista sanitario Restando in tema di migrazione d'accoglienza domani pomeriggio alle 18 ad Erice Nel campetto di calcio del circolo del tennis si aprirà il primo torneo internazionale Organizzato dal centro di primissima accoglienza per minori stranieri non accompagnati di Santa Maria delle Grazie di Erice Il torneo è stato organizzato in collaborazione con Peppe Tallarita dello staff Coni Trapani E grazie alla solidarietà e dallo spirito di partecipazione degli ericini del capoluogo Dell'AIA, sezione di Trapani, e della famiglia Moraceo e del Trapani Calcio La prima partita sarà un amichevole tra Africa United, composta dai minori africani, ospiti del centro di accoglienza E la Juvenilia 1954, presieduta da Monsignor Adragna Ritornano le altalene alla Villa Margherita di Trapani A montare questa mattina il sindaco Vito Damiano, degli operai Nemmeno Lombra Ritornano le altalene ai giardini pubblici, ma la notizia non è questa La notizia è che a montarla è stato il sindaco Vito Damiano e gli operai comunali non pervenuti Il primo cittadino annuncia che adotterà provvedimenti Frattanto domani mattina Damiano provvederà anche a passare il bostic nei tappetini Che saranno collocati sull'asfalto per proteggere i bambini che giocano con le altalene Impossibile infatti reverire un operaio che possa svolgere questa mansione assai difficile Mettere il bostic per incollare i tappetini Finalmente sono ritornate le altalene ai giardini pubblici Merito di chi? Merito della buona volontà Perché io già da sei mesi, poi c'è stata la lettera di quel bambino che aveva chiesto la riattivazione delle altalene Ho chiesto agli uffici di riattivarle perché ritenevo che fosse una cosa così banale, così stupida da realizzare Stavattina dicevo a un ragazzino che chiedeva ma cosa state facendo qui Ho detto il sindaco oggi rinuncia ad una giornata di lavoro ai suoi impegni per venire a montare le altalene Perché non è possibile, 500 dipendenti, non c'è un dipendente che si piglia la briga di mettere in funzione le altalene Guardi, io oggi ho speso 43 euro per mettere in funzione queste due altalene Chiaramente c'erano grossi problemi di bilancio perché siamo in esercizio provvisorio Nel capitolo non c'erano le somme, eccetera Quindi proprio disgustato di questo atteggiamento degli uffici comunali Sono andato presso i negozianti, sono andato, si possono fare i nomi? Dal ferramenta, sono andato dal venditore di attrezzature nautiche a comprare pezzi in acciaio, eccetera Facciamo il fai da te e sistemiamo le cose Quindi deve scendere in campo il sindaco perché evidentemente gli altri non funzionano Ma ci saranno provvedimenti nei confronti di questi dipendenti, diciamo, distratti? Sicuramente, sicuramente Domani metteremo in funzione le altre due Stiamo aspettando il falegname perché abbiamo commissionato le tavolette dove far sedere i bambini per realizzare le cose Quindi altri giochi? No, altri giochi, le altre altalene Quindi le altalene saranno cinque in esercizio Un comunicato dell'ufficio stampa della società di trasporti Segesta Con allegate centinaia di mail di protesta certificate da parte dei turisti Che lamentano i disservizi creati dall'ordinanza sindacale Che impedisce il transito dei bus lungo la via Ammiraglio Staiti Le proteste dovute ai disagi causati dall'ordinanza emanata dal sindaco di Trapani Nel pieno della stagione estiva che impone il divieto al transito degli autobus di linea sulla via Staiti Hanno provocato le proteste di centinaia di viaggiatori, turisti, pendolari e residenti Proteste certificate con centinaia di segnalazioni Certificate da documenti di riconoscimento e recapiti telefonici Il provvedimento impedisce agli autobus provenienti da Palermo e dall'aeroporto di Birgi Di raggiungere il porto, meta delle linee extraurbane e finalità dei servizi Che le aziende contrattualmente devono erogare all'ente committente, la regione Sicilia e ai viaggiatori La chiusura al transito dei pullman provoca l'interruzione del tragitto E nega di conseguenza ai passeggeri il diritto di raggiungere direttamente la tappa finale, cioè lo scalo portuale L'ordinanza del comune viene considerata dagli utenti come un attentato al turismo e alla razionalità E Trapani come l'unica città d'Italia dove il sindaco vieta ai mezzi pubblici l'ingresso nel centro storico Sostituendoli con altri mezzi più vecchi e senza aria condizionata Colpendo turisti anziani che viaggiano con il servizio pubblico Così, commenta l'ufficio stampa della compagnia di trasporti Le immagini di turisti che trascinano stancamente i propri bagagli arrivando dalle Isole Gadi Sono un pessimo biglietto da visita per una città a vocazione turistica Al via i lavori dell'ANAS sulla statale 188 Gibellina-Salemi Il sindaco di Salemi, Venuti, servono interventi radicali L'amministrazione vigilerà Operai dell'ANAS in azione per i lavori di recupero di alcuni tratti dissestati Della strada statale 188 che collega Salemi a Gibellina I cantieri sono stati aperti dopo la lettera scritta dal sindaco di Salemi Domenico Venuti Che a fine luglio aveva chiesto all'ANAS un intervento urgente Per la sistemazione del manto stradale della principale via d'accesso alla città Che collega il centro abitato allo svincolo dell'autostrada A29 Palermo-Mazzara del Vallo Nella lettera, ultimo di una lunga serie di solleciti Venuti Aveva evidenziato i disagi subiti dagli automobilisti Che ogni giorno percorrono quel tratto della 188 La strada, infatti, aveva subito diversi danni a seguito delle piogge invernali Operai a lavoro anche nel tratto di strada in cui l'ANAS aveva imposto il restringimento di carreggiata A seguito di una frana Il sindaco Domenico Venuti ha spiegato come si tratti di un intervento tampone da parte dell'ANAS Ma che consentirà comunque di sistemare la viabilità nei punti più critici Assicurando che la sua amministrazione comunale resterà vigile Così come già avvenuto per la statale di collegamento con Marsala Continuando a chiedere all'ANAS il massimo dell'attenzione Agriturismo Villa Cornelia Un posto incantato, scolpito nel passato Dove poter realizzare i momenti più belli Con eventi e banchetti anche a bordo piscina Villa Cornelia organizza il tutto con il catering con i migliori chef E non solo, puoi organizzare la tua estate in piscina Agriturismo Villa Cornelia Strada in Maccolatella, pietre tagliate Telefono 331 93 14 366 E adesso parliamo di Audi Cup Da solo in testa la classifica provvisoria Dopo due giornate di gare l'equipaggio americano di Argo Rispetta il ruolo di favorita per il titolo mondiale dell'EMERGE 32 Le condizioni climatiche di ieri con lo scarso vento da nord-est Hanno consentito una sola regata ai 22 equipaggi Che fino a domenica regateranno nelle nostre acque Per la conquista del titolo mondiale MEERGE 32 E il successo di giornate è andato l'equipaggio di G-Spot Con Serena di Lapigio Bruccine Considerato qualcosa di più di un potenziale outsider Dai pronostici della vigilia L'equipaggio di G-Spot ha mostrato buoni spunti prestazionali E ha tenuto testa ai leader della prima giornata Argo e Stig Sopra avanzati nel corso della seconda bolina Grazie alla buona lettura del campo da parte di Branco Bruccine Conquistata la testa della regata G-Spot ha tenuto a distanza tanto Argo finito secondo Quanto Stig terzo sulla linea Grazie ai risultati odierni La classifica della manifestazione cambia parzialmente aspetto Argo che ieri condivideva con Stig La testa della classifica provvisoria E' ora un punto avanti al team di Alessandro Rombelli La coppia di testa ha fatto letteralmente il vuoto Direi che sì La classifica sicuramente vedrà quelle imbarcazioni Nelle prime posizioni Ma è ancora presto Perché sono state fatte solo quattro regate Ce ne sono altre sei In una flotta così competitiva La lotta sarà fino all'ultimo Basta uno scivolone Per trovarsi dal primo, secondo posto, al sesto, al quinto, al settimo e viceversa Quindi è troppo presto ancora Ma certamente sono gli equipaggi che stanno dimostrando di essere arrivati a questo campionato Con la miglior preparazione di gruppo E quindi di essere davanti Avete già scelto il campo di gara di oggi? Penso che sarà sempre il campo nord Ma il comitato di regata si riserva di decidere all'ultimo momento Ma visto il meteo e il maestralino che continua a tenere Direi che sarà quello che mi sembra un'ottima scelta E sarà Mauro Carpi questa sera ad alietare il village della vela Ogni sera rientro dalle regate Gli equipaggi assieme agli appassionati della vela E ai tanti turisti presenti in città Si ritrovano nella tenso struttura di via Miraglio Staiti Per le notti della vela Lunedì è stata una giornata bellissima È stata una giornata di aggregazione È stata una giornata in cui Trapani ha mostrato il suo volto più bello Siamo riusciti a regalare alla cittadinanza Questo bellissimo momento di intrattenimento Oltre che di intrattenimento sportivo Con questa bellissima regata che è stata fatta nel porto Tra l'altro io ringrazio il comandante Cuccione Per aver citato la possibilità Di ripetere un po' quello che è stato 15 anni fa Con l'America's Cup Quando venne chiuso il porto per fare la sfiata delle barche È stato uno spettacolo stupendo È stata un'emozione vedere queste imbarcazioni sfilare Lungo il porto di Trapani Regatare fra di loro Poi c'è stato questo spettacolo dei fuochi artificio Che è stata una cosa molto suggestiva Sempre sul porto Gli ottoni animati che ringrazio anche Per aver partecipato E per essere stati anche loro vicino alla città di Trapani E dimostrare la trapanesità Come ho detto La sera dell'inaugurazione è questo momento di aggregazione È un momento di sport È un momento di festa È un momento in cui Trapani deve mostrare il suo volto più bello È un momento in cui dobbiamo lasciare un buon ricordo Perché questa città può fare tanto se comunque siamo tutti uniti E se siamo tutti in un'unica unione di intenti È quella appunto di promuovere lo sport e di promuovere la cultura Sicuramente a seguire in questi giorni ci saranno altri avvenimenti Voglio già dire che sabato ci sarà un aperitivo rinforzato E dove siamo tutti invitati Dalle 18 in avanti quando le imbarcazioni arriveranno in banchina Parteciperanno tutti gli atleti Mentre invece domenica sera Dalle ore 22 in avanti è previsto un party di saluti Perché ricordo che domenica finirà la classe Melges 32 Quindi finirà il mondiale con la premiazione alle 19.30 E successivamente Il lunedì ci sarà il cambio delle imbarcazioni Arriveranno i 24 per il campionato europeo E ci sarà un giorno diciamo di day off il lunedì Per dare il tempo di poter sistemare le nuove imbarcazioni E salutare i nostri primi ospiti Che spero si siano tratti bene qua a Trapani Domani alle 18 nell'oratorio della chiesa dei Salesiani Il sindacato 50 e più ha promosso lo spettacolo Tra canti e balli presentato da Lidia Manuguerra Si tratta di una serata di beneficenza Con proventi che saranno devoluti alla comunità Servi di Gesù Povero, di Suor Maria Goretti E allo stesso oratorio Salesiano Cala il sipario sulla rassegna letteraria Inchiostro d'autore organizzata dal lente luglio musicale Si pensa per i prossimi mesi ad una nuova edizione Con novità e grandi ospiti Il servizio Si è conclusa con un buon successo di pubblico e consensi La prima edizione della rassegna letteraria Inchiostro d'autore curata dal giornalista Marco Rezzo Ed inserita nel progetto Trapani, città mediterranea della musica Il grande contenitore culturale voluto e realizzato Dall'ente luglio musicale trapanese Che per quattro mesi ha animato la stagione estiva del capoluogo Otto appuntamenti con un parterre di firme Al di livello nazionale ed internazionale Che si sono svolti nell'atmosfera del chiostro di San Domenico a Trapani Tra gli ospiti Adriano Sofri, Benedetta Tobagi, Davide Camarrone Gipi, Giacomo Pilati, Giacomo di Girolamo e Maria Attanasio E Daria Galateria Sul palco per ricordare Elvina Sellerio Un salotto letterario condotto dal giornalista Marco Rezzo Senza limiti di genere o tematiche Variando nei registri e nei contenuti E ponendo al centro l'autore L'ultimo incontro della rassegna con Concita De Gregorio Che ha incontrato il pubblico trapanese per raccontare il suo ultimissimo libro Mi sa che fuori è primavera Un racconto di dolore, amore e speranza Una delle firme più celebre di Repubblica Conduttrice di pane quotidiano sul Rai 3 Concita De Gregorio Ha raccontato la forza della parola Il rapporto tra letteratura e grande pubblico Trapani si è dimostrata ancora una volta Una città curiosa, accogliente, assetata di conoscenza e cultura Ha commendato Rezzo Che si è soffermato sulla presenza dei più grandi autori contemporanei Spaziando dalla graphic novel alla romanzo epistolare Dall'inchiesta al libro commemorativo Regalando a Trapani una rassegna di alto profilo Degna di una città al centro del Mediterraneo Crocevia di culture e culla della storia La rassegna continuerà anche nei prossimi mesi Dall'ente Luglio Musicale hanno infatti annunciato Che è in programma nei prossimi mesi Una nuova edizione di Inchiostro d'Autore Con novità e grandi ospiti Si conclude oggi a Favignana la rassegna culturale Favignana Incontri 2015 Curata da Alberto Stabile L'ultimo appuntamento si terrà alle 18.30 Nel giardino di Palazzo Florio Con l'incontro dal tema Se l'antimafia finisce alla sbarra Ne parleranno i giornalisti Attilio Bolzoni Francesco Lalicata Vincenzo Vasile Franco Viviano Alessandra Ziniti E lo sceneggiatore Marco Rizzo Invece domani sera a partire alle 21.30 Sempre a Favignana Si terrà il non appuntamento della rassegna letteraria L'altra Marea A prodi d'autore alla tornara Florio di Favignana Curata dal giornalista e scrittore Giacomo Pilati Che avrà come ospite Matteo Collura Che presenterà il suo libro La Badante Autore del best seller Sicilia Sconosciuta Collura scrive articoli di cultura Per il Corriere della Sera E vive a Milano Iniziativa culturale L'altra Marea È organizzata dal comune di Favignana In collaborazione con la soprintendenza I beni culturali e ambientali di Trapani E si concluderà il prossimo 12 di settembre Invece terminerà questa sera alle 21.00 Nel cortile della scuola media Pacelli di Paceco Con la proiezione del film Il Concerto La rassegna cinematografica Cimarte L'arte che racconta l'arte Organizzata dall'associazione socioculturale Quattro Rocce La pellicola chiuderà il percorso tematico Sull'arte dedicato alla musica È previsto anche l'intervento Del direttore del conservatorio di Trapani Scontrino Walter Caloggio Roccaro Sempre questa sera Alla Villa Margherita di Trapani Alle 21.30 si terrà lo spettacolo finale Dell'ottava edizione del workshop E rice danza svoltosi nei giorni scorsi All'hotel Tirreno a Pizzolungo A presentare lo spettacolo sarà Edelfa Chiara Masciotta Miss Italia del 2005 E adesso pubblicità Ma restate con noi perché dopo c'è lo sport E adesso passiamo allo sport E apriamo con il basket Si è tenuta ieri pomeriggio Nella sala stampa del Palailio Cacco benvenuti La conferenza stampa di presentazione Della partnership tra la pallacanestro Trapani Un accordo annuale in partenza Poi si vedrà Ha preso il via così L'accordo di partnership Che legherà come main sponsor Il marchio Trapani Alla pallacanestro Trapani Oltre al già consolidato Lighthouse Qual è l'obiettivo di Trapani? Ce lo spiega il direttore generale Di Sicil Conad Natale Lia Fare la sponsorizzazione di un'attività sportiva Ha un valore che secondo me va Va ben oltre il semplice aiuto economico Ad una squadra Di portare avanti i propri progetti sportivi Sicuramente è legata Alla volontà E alla visione Diciamo che c'è il gruppo Conad Verso i giovani Verso le attività sane Verso uno sport dove Il fair play Lo stare insieme E tifare però in modo sano Senza drogare Diciamo il mondo sportivo E sicuramente Educativo Verso i giovani Il gruppo Conad È un gruppo fortissimo Ormai in Italia Tenta in tutti i modi Di raggiungere la leadership Nella grande distribuzione E sta lavorando tantissimo Su una serie di messaggi Da dare Per rendere Tutte quelle che sono le attività Commerciali E che sono in realtà La parte viva Dell'industria Perché l'industria produce Ma chi poi distribuisce E mette sul mercato I prodotti Sono le aziende Le aziende commerciali Il grande La grande responsabilità E anche sociale Verso il sociale Questo impegno Verso il sociale Secondo me si realizza Molto attraverso La sponsorizzazione E l'affiancamento E la partnership Con realtà sportive Appunto sane Come questa Del basket Di Trapani Che ha un vivaio Interessante Di tanti giovani Sui quali punta tanto Quindi indipendentemente Dal nome bello Dalla possibilità Di raggiungere Grandi risultati Con questa squadra Che ci auguriamo tutti Sicuramente La cosa più importante Invece Poter dare Forze ed energie Ad una società Per poter Diciamo educare Quelli che sono I nostri figli E le persone Appunto Che verranno E che saranno Nel futuro Di questa nazione Oltre a lui Presente alla conferenza Il direttore marketing Di Sicil Conad Giovanni Anania A fare gli onori di casa Il presidente Della pallacanestro Trapani Pietro Basciano L'amministratore delegato Giulio Trovato Ed il responsabile commerciale Andrea Agazzani Ospite d'onore Il noto giornalista Italo Cucci Una nuova denominazione Quindi per il Palailio Che prenderà il nome Di Pala Conad Così come la creazione Della Conad House La dimora Delle nuove leve Della pallacanestro Trapani E poi tornei giovanili In giro per la Sicilia E l'Italia Sempre a marchio Conad Ma ovviamente Questa non è stata Solo occasione Di parlare di marketing Ma anche di basket giocato Che il nostro obiettivo Era quello di fare qualcosa in più Rispetto all'anno precedente L'abbiamo detto l'anno scorso Ci è andata male Perché abbiamo fatto Un passettino indietro Quindi quest'anno Vi dico Noi ci dobbiamo salvare Punto Questo è l'obiettivo Poi quello che viene 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 dopo Per scaramanzia Vi dico che ci dobbiamo salvare Nonostante io a inizio stagione Abbia detto A chiare lettere Riduco il budget Rispetto all'anno scorso Nonostante questo Loro hanno fatto Una squadra Che credo che sia Non detta da me Ma detta da chi Fa il mestiere vostro E anche da chi sta A posto di Giulio In altre squadre Abbiamo fatto una squadra Che potrà dire la sua Questa la conclusione Del presidente Basciano Che proprio ieri pomeriggio Con l'arrivo di Taylor Griffin Ha potuto vedere La sua squadra al completo L'ala della pallacanestro Strapani è stata chiara Nella sua prima dichiarazione Non vedo l'ora Di mettermi al lavoro Con i miei compagni La cosa che più mi piace fare Su un campo da basket Vincere ovviamente La presentazione degli americani Con tutta la prima squadra Al completo E lo staff È fissata per domani sera Alle 21.30 Al porto di Trapani Nell'ambito Dell'Audi Tron Sailing Series E adesso passiamo al calcio A Trapani Quindi in occasione Della presentazione Della partnership Tra pallacanestro Trapani e Conad Ai nostri microfoni Italo Cucci Ha parlato ovviamente Del prossimo campionato Di Serie B Che sta per partire Il campionato Se riesce a partire Mi sembra un campionato divertente Un campionato dove mancano Grandi protagonisti Quindi sarà un campionato di B Di quelli lottati Fino all'ultimo minuto Senza che ci siano gli squadroni Che scappano un attimo prima Anche sia onor del vero Gli squadroni dell'anno scorso Sono il Frosinone e il Carpi Ragion per cui c'è gloria per tutti Nonostante lottito Si può salire in Serie A Sarebbe bello se ce la facesse Anche il Trapani Perché ormai siamo tutti Ad armi uguali E puntare su quelli che in realtà Possono costituire le emozioni E rispecchiare i valori di una città Ma mi piace dire una cosa Che indipendentemente Dalla bravura Dei dirigenti Del basket Del calcio Eccetera La fortuna delle squadre locali È di essere in una città Ampiamente tollerante Una città che aiuta Una città che spreme entusiasmi Anche per poco Perché ne ha voglia E che accompagna Le due squadre Con grande affetto Con grande passione Adesso chiudiamo Con gli appuntamenti Sutt e le Sud Alle 21 alle 23 Appuntamento con la politica Il nostro direttore Rocco Giacomazzi Per Seconda Repubblica Intervista all'onorevole Paolo Ruggirello E adesso rimanete con noi Perché dopo la pubblicità C'è come sempre La nostra seconda edizione State lì Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori